Allora, allora, ben ritrovati cari amici di Economia d'Italia, un like oggi è necessario perché ci prenderemo tanta di quella merda nei commenti da parte dei nostri agricoltori indignati e ci tengo a dire che ovviamente il titolo non è rivolto a tutti, ma vorrei suggerire, diciamo, alcune interpretazioni, alcuni elementi, ok, sulla questione, perché i nostri cari agricoltori si stanno lamentando voi per cose giuste, voi per cose ingiuste, voi per cose che magari sono anche condivisibili sotto certi aspetti, altre invece, diciamo, sono abbastanza assurde, ecco, io ne ho discusso nell'ultima settimana con molte persone che appunto ritenevano i poveri agricoltori essere in una situazione abbastanza critica, insomma, questi poveri agricoltori che non arrivano alla fine del mese, mi par di capire, però le cose sono un pochino diverse, le cose sono estremamente diverse, diciamocelo chiaramente, ecco, facciamo nomi e cognomi e partiamo appunto da che cosa, dal cosa, dal perché ci si lamenta, ci si lamenta in buona sostanza perché l'Unione Europea sarebbe, come dire, distante dai nostri agricoltori e inoltre ci si lamenta di una certa concorrenza sleale. Allora io mi chiedo, quando c'è concorrenza sleale? Quando c'è ingiustizia sociale? Quando c'è una situazione in cui Tizio parte avvantaggiato rispetto a Caio? Ci si chiede, ma probabilmente è una situazione in cui, ad esempio, Tizio per un motivo o per l'altro riesce a pagare meno imposte. Potrebbe essere un'idea questa. Noi chiediamoci, ma quanto pagano di imposte i nostri cari agricoltori? Quanto? Partiamo dalla più disdicevole imposta fra i liberali, l'imposta sul valore dell'immobile, perché il mattone è il mattone, dicono i liberali. Ah, guarda caso, sono isenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Ma pensa. Quindi non pagano l'Imu? Interessante, vabbè, ci sta. Magari, insomma, è giusto che non paghino l'Imu. Vabbè, può essere. Ma andiamo a vedere anche altre situazioni. Magari che pagano l'IRAP? Osti no. Fino al periodo di imposta 2015. Dal 2016, la legge di stabilità 2016 ha previsto che non sono soggetti passivi IRAP coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi. Non pagano l'IRAP. Vabbè, ma l'IRAP l'abbiamo tolta a tutti. Dai, ragazzi, insomma, non stiamo mica lì a romperci le balle su questo tema. Dai, sono cose veramente di secondo aspetto, signori. Sono le solite cose di sinistra per rompere il cazzo. Noi, invece, vi ho detto più volte che, diciamo, la sinistra è che mi piace particolarmente. Nemmeno il centro, nemmeno la destra, verità. Però, diciamo, mi sento un pochino più vicino lì. E quindi, diciamo, magari devo cercare qualcos'altro. Osti! Non pagano neanche l'IVA. Non ci credo. O meglio, la pagano, però oggi è volata. Ordinaria al 22, ridotta al 4. Aia! Osti, come si fa qua? Vabbè. Magari pagano l'IRPEF. L'articolo 1,80 estende all'anno 2023 l'esistione ai fini IRPEF dei redditi domenicali e agrari. Cavolo. Non pagano neanche l'IRPEF. Vabbè, però, sai, non pagano l'IRPEF, però, Umberto, anche te lo sai perfettamente che nessuno paga l'IRPEF. Dom! Vai avanti! Non riceveranno i sussidi alla fine della fiera. Osti ricevono anche i sussidi. 3 miliardi e 3. Secondo Pagella Politica, in verità, sono un po' di più. Rifacendo il conto, sono circa 8. Circa 8, più o meno. Brutte cose. Brutte cose. Veramente brutte cose. E tra l'altro, cavolo, ora che mi scappa l'occhio, ricevono un sacco di fondi dall'Unione Europea. Osti! Ma come? L'Unione Europea non era mica distante da questi agricoltori. Cazzerola. Ma, scusami un attimo, eh. Mi chiedo. Fammi vedere come si distribuiscono questi redditi. No? Perché magari sai. Insomma, certo che... Non paghi l'IRPEF, non paghi l'IVA, non paghi l'IMU, non paghi l'IRAP. C'hai l'IVA agevolata. Se ricevi i sussidi, sarà mica che non arrivi a fine del mese? Fammi vedere un po' come si distribuiscono questi redditi. Cazzo. Cazzo. Tosta, eh, qua. Tosta. In linea blu, reddito lavoratori dipendenti. Linea arancio, reddito agricolo. Reddito agricolo, reddito agrario. Ah, cavolo. Un po' difficile qua, eh. Reddito agricoltori, dichiarazioni dei redditi, se leggo bene, 2021 per il 2022. 2022 per il 2021. Ah, cavolo. Cioè, mi stai dicendo che quindi agricoltori guadagnano molto di più dei lavoratori dipendenti. Eh, pare che sì. Pare che sì. Osti. Quindi, ricapitoliamo. Paga niente. Hanno redditi più elevati. E si lamentano pure. Quindi ciò al generale vannacci è proprio un mondo al contrario, eh. Proprio un mondo al contrario. E allora, qua bisognerebbe chiedersi, ma è giusto sussidiarli? Perché, giustamente uno dice, sì, però, certo, se guardi questa parte qua della distribuzione, però, considera che c'è anche questa, né? Eh, allora io mi chiedo, perché tutti non pagano le imposte? Cioè, perché capisco che questo magari ha difficoltà. Veniamo agli incontro. E' quello che è assoggettato alle legide della GDO, della grande distribuzione organizzata. Non ha potere contrattuale. Arriva il grande manager dell'Esse Lunga, giusto per fare un nome di una azienda a cui do le mie prebende, finissilmente, ok? Quindi arriva quello dell'Esse Lunga, impone un prezzo e ci guadagna poco. Eh, può capitare. Quindi, insomma, arriva lo Stato e dice, no, bisogna dargli il sussidio. Eh, allora perché, scusatevi, non facciamo una bella imposta progressiva? Che è quella che pagano i dipendenti, no? Con le aliquote marginali all'800% dopo i 35.000 euro. Perché? Perché non facciamo una bella aliquota progressiva? Insomma, decidiamo che chi sta sopra la mediana dei redditi paga le imposte, chi sta sotto no. Facciamo così. È più semplice. Non vi pare? Perché, scusatemi un secondo, che senso ha sussidiare il prodottino tipico che magari viene venduto a 30, 40, 50 euro? Io faccio l'esempio della mia zona. Nella mia zona viviamo di agricoltura. Sì, può essere. Anche di turismo, sì, qualcosina c'è. Anche di fabbriche, sì, fortunatamente. È una zona molto resiliente. Io sono molto fortunato ad essere nato qua, devo dirvi. Perché dove mi giro mi giro ci sono industrie, ci sono campi agricoli. C'è anche turismo, c'è cultura, c'è società. È una bella zona dove vivere il Lago di Iseo. E c'è appunto Franciacorta. Io faccio l'esempio a Franciacorta, guardate. Ma secondo voi, il povero, quello che guadagna qua, tra i 10 e i 15 mila euro, su questa distribuzione delle dichiarazioni IRPEF del 21, tra i 10 e i 15 mila euro, secondo voi, questa persona qua va a prendere il Ferghettina, va a prendere il Maddalena, va a prendere un Cadelbosco, ma facciamo l'esempio dei vini, oppure va a prendere qualcos'altro. Così, per ridere. Oggi, ho detto, ma non sono mai andato a vedere come funziona l'S lunga online. L'ho fatto una volta, durante il Covid, mai più. Allora mi sono chiesto, ma quanto costa l'S lunga? Ripeto, fantastico marchio, non sto parlando male né del Franciacorta né dell'S lunga, anzi, forse ne abuso anche troppo, francamente. Però, secondo voi, un povero va a prendersi il Ferghettina, Franciacorta, brut, a 19,90 euro, oppure il Saten, a 29? Oppure magari, non so, adesso, magari, probabilmente, il povero neanche va a prendersi quelle cose lì, però. Oppure, non va magari all'S lunga. Oppure magari si prende un Gatto d'Oro, Fontana dei Desideri, vino bianco 75 CL, a 1,59. Non so, se è questa l'idea che vogliamo sussidiare, beh, sussidiamo certamente, magari capisco di più, il Lambrusco dell'Emilia, amabile, 75 CL, a 1,99. Un'offerta. Da non perdere. Quindi, decidiamoci. Vogliamo sussidiare seriamente il sottoscritto che va a prendersi il Franciacorta? o vogliamo sussidiare l'agricoltore che non arriva a fine del mese e poi magari, giustamente, si fa un mazzo così per riuscire a vendere sulla GDO? Si fa un mazzo così per avere un po' di network, per vendere qualcosa? E giustamente non fa un prodotto di estrema qualità, ma fa il suo prodottino, tranquillo, che vende all'S lunga, a prezzi super ragionevoli. perché quando parliamo appunto di sussidi, quando parliamo di imposte, dobbiamo sempre chiederci se è giusto prendere i soldi della Fiscalità Generale, i soldi di tutti, ok? E se è efficiente. Prima se è efficiente, poi magari se è giusto. Oppure, dipende dagli ordini morali che avete in testa. E quindi decidere, insomma, se è efficiente, se è giusto, se è moralmente accettabile, se vi sembra corretto. Cioè, vi sembra corretto, che ne so, sussidiare un buonissimo prodotto, cioè io lo adoro, ok? Non so, un amarone, o che ne so, il parmigiano reggiano, o il grana padano. Che sussidio deve starci in queste realtà? Che si vendono da sole, che sono alto valore aggiunto, che sono export, che sono prodotto, di estrema, ripeto, di estrema qualità. Perché appunto, i prodotti italiani, fortunatamente, poi, sulla storia dei prodotti italiani vi consiglio Doi Podcast, che vi spiega un po' che, diciamo, ci sia svegliati fuori negli anni 50-60 a capire che la qualità servisse. Però, i prodotti italiani sono di estrema qualità, sono ricercati nel mondo, e sono cari. Se voi andate all'estero, il prodotto italiano costa un sacco. Perché è buono? Perché è di qualità? Perché sappiamo fare imprese all'estero? Ma che senso ha fare, sussidiare, questa esportazione che tira? Questa esportazione che tira? Perché, fortunatamente, siamo riusciti a creare un bel marchio, made in Italy, forse l'unica cosa che riusciamo a fare è esportare prodotti di estrema qualità, perché i nostri antenati, i nostri nonni, i nostri padri sono riusciti a creare un bellissimo prodotto e noi chiediamo il sussidio a quel bellissimo prodotto. Ma che senso ha? Sono già in grado, sono bravissimi da soli a stare in piedi. Noi stiamo togliendo risorse e invece a chi ne ha di bisogno. Questo è il tema, altro che. Quindi quando vedo queste persone vanno a chiudere le strade, a lamentarsi, mi dicono ma esattamente perché lo fate? Esattamente perché lo fate? Ma chiedete, ad esempio, di essere più canalizzati, di avere più sussidi su chi veramente non ci arriva. Eventualmente, poi si può discutere se è giusto sussidio o sbagliato, non è ben inteso, però mi chiedo, ad esempio. Dopodiché, andiamo a vedere qualche dato magari anche sugli export dei prodotti italiani perché sembra quasi che l'Unione Europea e il mercato unico non abbiano fatto del bene ai nostri prodotti. Invece no. Adesso vi rimetto in condivisione. Guardate come cresce l'export italiano. Superato l'import. I prodotti agroalimentari, io adesso ho fatto l'esempio del vino, poi se ne possono fare un sacco, pecorino di farindola per dire buonissimo, costa più del grano, al chilo. Ve lo consiglio. Se avete occasione, passate dall'Abruzzo, prendetelo. Però guardate l'import. Scende un pochino, si flette, l'export sale. Perché? Perché appunto abbiamo un forte tessuto lì e non bisogna usare le frasi alla lollobrigida del cazzo. Onestamente sviliscono, secondo me, anche un settore che vale veramente tanti tanti soldi, dà da lavoro a tante tante persone. Bisogna però essere chiari e dirsi no, non è questa la strada. Se i nostri prodotti arrivano più facilmente sulle tavole americane, ma anche dei partner europei e via discorrendo, è un bene. È l'Italia che viaggia nel mondo. Sono soldi che entrano qua, eventualmente. È gettito che viene imposto, chiaro. Se va fuori un prodotto italiano, è un bene. È un bene. E ci sta invece importare quei prodotti che purtroppo per quella fascia di popolazione che non se li può permettere costano di meno. Ma ci sta. Ma voi vorreste vedere un prodotto top qualità in Italia venduto a poco, 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 perché non lo so. Si è deciso così. Cioè 18 euro, 20 euro che costa in più il Franciacorta, sono sussidiati allo Stato e il Franciacorta sta a 3 euro. Cioè questa è l'idea, secondo me, che vogliono far passare. Ma che cazzo? Allora a questo punto vorrebbe da dire quello che lo esporta a 40-50 euro è un fesso che potrebbe tranquillamente organizzare dei grandi acquisti in massa a supermercati e poi portarseli a casa. Ci risparmia un sacco, no? Ragioniamo anche su questi elementi. Secondo me sono importanti. Ma poi parliamo anche del settore della questione ecologica, no? Perché anche questo è importante, no? Ma secondo voi il prodotto italiano ha paura degli OGM? Un prodotto che, ripeto, la gente paga fior fior di quattrini per prendersi. Ma se si stabilisce che il prodotto italiano è normale, ok? Quindi quello senza OGM è molto più buono rispetto agli OGM. Ma beh, venga! È facile batterli, sti OGM. Ma è facile battere la carne sintetica. Ma secondo voi quello che produce la fiorentina, vera, ha paura di quello che produce la carne sintetica? Eh, c'è qualche problema, eh, se è così. Che vuol dire che il tuo prodotto è scadente. In verità, non è vero. La fiorentina è un grande prodotto italiano. È buonissima. Parlando poi di emissioni, anche qua, la Commissione Europea, come faceva vedere Carretta, ha ridotto moltissimo le aspettative sull'impatto delle emissioni per quanto riguarda il settore agricolo. Da 3,85 a 3,51 tra il 2015 e il 2040. Tutti gli altri settori, questa è una scheda che vedevamo anche i giorni scorsi, tutti gli altri settori invece vedono forti riduzioni. Poi possiamo essere d'accordo, in disaccordo con le modalità con cui l'Unione Europea intende fare questa transizione. Sapete che io ho espresso più volte criticità. Ma non si può dire che si sta chiedendo uno sforzo in mane agli agricoltori perché altrimenti non lo so. Tutti gli altri settori cos'è che devono fare? Mettere a ferro il fuoco tutto. Siamo in democrazia, comportiamoci come una democrazia. Ci sta a protestare, ci mancherebbe non può essere che questa situazione scatena delle proteste dell'ultima generazione. Cioè, letteralmente, io mi chiedo, siete l'ultima generazione? Tra l'altro hanno subito gli applausi di l'ultima generazione, vedi, scorrendo anche questo fa abbastanza ridere. Fa abbastanza ridere. Perché l'ultima generazione in verità vorrebbe distruggere il mondo agricolo. qui forse notiamo anche un paradosso sotto certi aspetti. Quindi, il mio invito è rifletterci, è di domandare dei sussidi più mirati per chi effettivamente non arriva a fine del mese, ma evitare di creare, anzi, di alimentare queste strutture secondo me distopiche all'interno diciamo della distribuzione dei sussidi. Non ha propriamente senso, detto francamente. E detto ciò, questa filippica, vengo alle vostre considerazioni, sicuramente saranno più intelligenti delle mie. Non so qual è l'idea del chilometro zero che sta uscendo fuori in questi giorni. È una stupidaggine. È una stupidaggine il chilometro zero. Chi lo paga? Il consumatore. Il chilometro zero significa avere povertà alimentare, alimentare. L'ultima volta che abbiamo applicato il chilometro zero, abbiamo applicato questo regime autarchico, non è andata proprio bene. Se vi ricordate le questioni del grano durante il ventennio, non è andata proprio bene. E chi ne ha pagato di più? È stato proprio lo sviluppo agricolo. Questioni del riso, questioni della pasta, via discorrendo, ne hanno pagato di più l'oro. Oltre che la povertà alimentare di tutta la nazione. Quindi, se l'autarchia non funziona, io capisco che magari la globalizzazione spaventa. E la globalizzazione non è un pranzo di gala, ci mancherebbe. Non è che ci si diverte tutti vi discorrendo. Però noi dobbiamo fornire dei prodotti alle persone meno appienti in qualche modo. E quello è il miglior modo. Se ne abbiamo un altro, benissimo. A parità di costi, se è più efficiente, benissimo, proponino. fantastico. Fantastico. Per ora mi sembra che tra autarchia e mercato sufficientemente libero, sembra che il mercato sufficientemente libero sia meglio. E tra l'altro ha portato buoni redditi a questo mondo. Mondo agricolo. Quindi non so di che cosa ci si lamenti. Poi è vero, ora l'IRPEF l'hanno rientrodotto, ma è giusto che sia rientrodotto l'IRPEF. È giusto che sia rientrodotto l'IRPEF. un pochino. Anzi, dovrebbero anche rientrodurre l'IMO, togliere l'IVO agevolata su alcuni prodotti e via discorrendo. Perché altrimenti non ha senso. Non ha proprio senso. Allora, Umberto non pensi che alla fine il principale ostacolo è l'entrata dove in Ucraina? Sì, sì, ma se guardiamo i dati comunque non ha molto senso. Cioè io capisco che bisogna rivedere la PAC. La PAC è una misura fatta veramente secondo me col deretano. Marzo 2021 non si paventava l'entrata dell'Ucraina in Unione Europea eppure questo era l'import dall'Ucraina italiana. Ad esempio mais, una marea, ok? Per cui tu già lo importi dall'Ucraina. Eventualmente lo spavento è quello di vedersi i sussidi ridotti notevolmente perché appunto c'è un nuovo divisore importante che è l'Ucraina, che è il granaio d'Europa sotto certi aspetti. Quindi sì, quello è probabilmente la lamentera. Se vuoi ridurre i prezzi eventualmente vai dal tuo consorzio di fammi fare più quota di prodotto. Voglio vedere se qualcuno nei consorzi è disponibile a aumentare le quantità prodotte perché quello fa sì che i prezzi scendano. Ma quindi lo scopo del consorzio è fare cartello. sì, i consorzi sono dei cartelli fin dei conti. Tu ti metti dentro il consorzio, accetti delle regole, in cambio ti danno il marchio, ti attestano, poi ogni consorzio a sé, sempre c'è quello del parmigiano reggiano, è molto ferreo, estremamente ferreo, perché è un prodotto di qualità, di estrema qualità e quindi ovviamente ci sono tutta una serie di regole. Poi chiaramente uno dice io voglio la libertà, ci mancherebbe puoi uscire fuori dal consorzio quando vuoi, rinunci al marchio, il marchio del consorzio e vendi in tutta libertà. Però banalmente il prodotto a marchio parmigiano reggiano costa non so 30 euro al chilo, sparo 34 euro al chilo più o meno, ok? Se stai fuori dal consorzio quella roba lì è formagella, per quanto sia parmigiano reggiano un nuovo prodotto vi discorrendo, però non ha il marchio e quella roba lì te l'accettano a X perché è la domanda che trai la no. Io voglio il parmigiano reggiano, non voglio il formaggio normale, ok? Senza il marchio, magari però è uguale. Sai quante forme che vengono, che passano dentro il controllo di qualità e viene stabilito che non sono parmigiano reggiano perché non rispettano tutti i crismi, quindi non le puoi vendere come parmigiano reggiano, le venderei come qualcos'altro. Hanno proprietà per centinaia di milioni di euro. Esatto. Allora un operaio sfigato che perde il lavoro e deve pagare un hat di prosciutto di 8 euro ti sembra giusto. Esatto, Pincopallino dice molto bene, dici molto bene, non si capisce questa cosa. Tipo ad esempio una cosa che non ho toccato, è un'altra questione importante. Ad esempio i contributi su fotovoltaico. Chi è che se li ricorda? Chi è che li ha mai gestiti? C'è qualcuno che questa chat li ha mai gestiti? Parlo del 2016, 2017, 2015, forse anche prima, io ho iniziato a gestire nel 2015. Tutta quella roba lì è non imponibile, non imponibile. Contributi anche da milioni di euro all'anno, non imponibile. In quel momento si sono lamentati la transizione ecologica. Avete sentito qualcuno lamentarsi? La transizione ecologica era brutta? In verità lì è uno spreco di terreno, c'è un effetto ambientale importante perché giustamente come prima qualcuno faceva notare la questione del cambiamento climatico comunque per quanto riguarda le questioni ambientali non è legata soltanto alla CO2. La CO2, ci sono i nox, ci sono le polveri sottili, c'è il consumo di suolo, il consumo di suolo, parliamo di consumo di suolo. Quello è efficiente, quello lì è una modalità efficiente di fare transizione. E quanti miliardi è costata nel tempo? Vabbè, che i margini... L'apo infatti l'ho detto, quando io dico GDO, ok, la GDO, qual è il vantaggio della GDO? Il vantaggio della GDO è il seguente, io so che riesco a piazzarti sul mio supermercato, ok, che ne so, 100 tonnellate, sparo una cifra a caso, ok, perché ho una catena di supermercati enorme, ti piazzo 100 tonnellate a settimana, tu riesci a produrmi, sì, benissimo, qual è il margine che fai di solito? Il 30%? Benissimo, adesso ci fai il 5, beh, chiaro, è un problema, però forse il 5% di 100 tonnellate è meglio del 30% di niente, quindi, è inutile che ti lamenti dei margini, sono bassi, sono bassi margini, eh, beh, sì, bassi margini, chiaro, però magari tu, facciamo un esempio più semplice, 30 tonnellate a settimana, quello arriva, te ne vuole 100, però ti riduce, eh, fai costi e opportunità, valuti, riesco a farne 130 a settimana, se riesco a fare 130 a settimana significa che dei 30 ci guadagni un 30%, e su 100 ci guadagni un 5 in più, dimmi chi è il cretino che dice di no, capite che non ha senso, non ha senso sta cosa, non è che era prima al 30% e te l'hanno ridotto al 5% e ora sei un po' nella merda, che lì magari capisco, ma no, si tratta di, prima vendevo a 30% e ora vendo a 30% più 5%, direi che quando firmi hai valutato bene costi e benefici, nessuno ti ha obbligato a vendere 100 tonnellate, Lupo Mazzi mi dice, appunto, con i margini bassi sopravvivono solo proprietà sufficientemente grandi, grazie, quelle piccole fanno però tutto in nicchia, abbi pazienza, ma il pecorino di farindola è fatto col caglio di scrofa, che è buonissimo, che è una roba super mega particolare, viene venduto nella GDO? Punto di domanda, no, non ha senso venderlo nella GDO, non lo vendono nella GDO, adesso io non so quanto viene piazzato il pecorino di farindola, ok? Allora, un chilo e sei sta a 94 euro, ok? Tu dimmi, adesso ho preso il primo sito che mi è venuto in mente, sta a 94 euro, va bene, direi che ho detto tutto però, giusto, è stato anche molto prolisso da questo punto di vista, abbiamo fatto una puntata un po' lunghetta, però, secondo me è uscita anche una bella discussione, insomma, per stringere bene ci sono molti agricoltori meritevoli, secondo me, che meriterebbero probabilmente di vivere in un ambiente un pochino più competitivo, far crescere il loro prodotto, ci sono altri agricoltori che magari non arrivano a fine del mese, ma sono utili per avere prodotti comunque con un prezzo basso, sulla GDO non ha senso trattare tutti allo stesso modo, questo è il tema, e tra l'altro, anzi, vedendo che molte dei sussidi sono dimensionali, non ha senso agevolare di più chi è che ha più martine, perché anche questo è un altro aspetto. Va bene, io vi invito a mettere like se il video vi è piaciuto, qua sotto in descrizione trovate come al solito le fonti, qualche grafico, qualche elemento utile a analizzare il tutto e a contestualizzare, eventualmente approfondire, vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo domani alle 12.30, statemi discretamente bene, ciao ciao, 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 Grazie a tutti.